Ti abbiamo trovato, tanto benvenuto in PINETI Andrea Poli. Grazie mille, grazie mille per me, insomma, sono giorni bellissimi e sono molto contento di essere qui all'Inter. Poco più di 20 anni, qui c'è una storia, beh questa è più recente, questa degli ultimissimi anni. Tra l'altro tu l'hai vissuta in maniera diretta perché qualcuno mi ha raccontato che eri a Madrid a vedere la finale. Sì, sono venuto a vedere la finale a Madrid, è stata un'emozione unica, sono ricordi bellissimi anche da chi li guardava come spettatore. Quindi, insomma, è stata una partita fantastica che poi sto ammirando qui nelle foto ed è bellissimo. Come va la decisione di andare a Madrid da calciatore di un'altra squadra per vedere bel calcio? C'era già un'attenzione particolare ai colori nerazzurri? Sì, c'era un'attenzione particolare perché insomma sono colori che mi piacciono, mi sono sempre piaciuti. E' stato proprio un momento bello perché poi era il mio primo anno di Serie A, quindi avevo giocato contro l'Inter. E quindi mi faceva piacere andare a vedere una partita del genere, è stato uno spettacolo sportivo eccezionale. Sei in quella fase della carriera delicata, molto bella, perché sei giovanissimo, abbiamo detto poco più di vent'anni. Esordio in Serie A giovanissimo, poi inizi già la trafila delle nazionali e sei un giocatore di qualità. Quindi puoi diventare fortissimo, qual è la tua volontà, la tua coscienza di questo momento? Comunque so di essere arrivato in un club, insomma un top club, quindi questo a me fa onore e farò di tutto per meritarmi questi colori, per meritarmi questa maglia. Io insomma sono giovane perché fra un po' compio 22 anni, però insomma spero di poter lavorare bene qui, di migliorare e di mettermi a disposizione più presto possibile dei miei nuovi compagni e del mio allenatore. Com'è cambiato il Poli che cresce, nasce, cresce in un calcio importante, quello di Treviso, però di provincia, a quello che poi conosce la Serie A le nazionali? Cioè come ti sei modificato calcisticamente e umanamente negli ultimi anni? Vabbè è chiaro, insomma grazie alla Sampdoria ho potuto conoscere la Serie A, sono cresciuto lì perché poi ho fatto la primavera lì, quindi è una società che a me ha dato tanto, che comunque devo ringraziare perché mi ha fatto conoscere il palcoscenico della Serie A e delle prime coppie europee, perché insomma il preliminario ancora due anni fa, poi l'Europleague, insomma sono state grandi esperienze, è chiaro. Io sono uno che vuole migliorare, quindi trae ogni segnamento, da ogni allenamento, da ogni partita e quindi insomma vorrei farlo anche qua all'Inter perché insomma ci sono giocatori dei grandi campioni, quindi io veramente spero di potermi allenare il più presto possibile con loro e di imparare il più possibile, poi è chiaro metterò tutto me stesso e molta applicazione, molto impegno perché ripeto sono arrivato in un grandissimo club, in uno dei più importanti club al mondo, quindi sono veramente contentissimo. Mi hai già detto che vorresti andare in campo subito, però c'è un problemino, quindi qualche giorno ancora per poterlo gestire al meglio, però si tratta di poche settimane insomma per il tuo debutto. Sì, però bisogna stare un po' attenti perché non bisogna evitare ricadute né niente, io ho avuto un infortunio muscolare due settimane fa, nell'ultima partita con la Sondoria, quindi bisogna stare un po' attenti però ripeto la voglia è tanta e con il professor Combi adesso inizieremo le cure, domani già mi ha detto che potrò corricchiare, quindi insomma sono contento, però ho questo problemino che è un po' l'unico neo in questi tre giorni inaspettati e stupendi. Insomma è una piccola cosa quindi saprei risolvere. Ultimo dettaglio, la migliore qualità di Poli? Sicuramente sono un ragazzo molto applicato, sono uno a cui piace lavorare, a cui piace impegnarsi e spero di farlo qui all'Inter. Abbonamento Inter Channel già fatto? No, non l'ho affatto, però credo che mia mamma in queste ore lo farà i miei genitori, insomma lo faranno. Buona avventura Lera Azzurra, ciao. Grazie, un saluto.